Musica 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 Bene ragazzi sono Dario e sono tornato con un nuovo gameplay, eccoci qui con un nuovo episodio di A Voi La Scelta Il Ta E siamo con un'arma, tanto per cambiare di merda si perchè abbiamo un fucile DMR Cristo che ci ha consigliato il nostro amico Coso Gianluca Florio non mi veniva in mente il nome comunque ce l'ha consigliata lui e è un fucile DMR il MR28 con silenziatore e mirino olografico è una vera cagata ed è dire poco, vuol dire cagata cioè guai si riesce a fancazzo da tuvi va bene va bene, va bene non fa niente aspetta che si è beccostostro oh cazzo mamma mia quanti so questi passano tutti dietro fammi entrare con le magno e babbacco fanculo su bene siamo già sotto dobbiamo già cominciare a recuperare siamo 1-3 ottimo non possiamo più buttarci in mezzo alla mischia come se fosse niente comunque cazzo ma dai no questo l'ho ammazzato cricpio 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 stiamo facendo schifo proprio come squadra cioè 21-6 ma dove sei mai vista una cosa del genere? ciao 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 pure te oh c'ho dietro ole occhio ma porca troia fatti i cazzi tuoi e oh e oh ah oh oh il cane oh il cane mamma mia c'ho qua c'ho dietro e baffanculo vabbè capito va spegniamo tutto e andiamo se ne c'è cristo santo ole dai che recuperamo tanto ti becco ti becco oddio ma dai non ci posso credere quello stava giurato là perchè era passato quell'altro vabbè sarà un'impresa veramente ardua recuperare eh comunque ragazzi 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 così non va oh c'ho qualcosa e che cosa dire passate per la pagina facebook no così per il prossimo episodio mi potete consigliare voi la classe vabbè 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 questo mi ha sciottato ovvio aveva un fucile di precisione vabbè mamma mia quanto rosico quanto mi fa rosicare sto gioco poi dici eh vabbè per questo io gioco gioco a fifa no perchè fifa ti fa rosicare pure di più cioè sono proprio cose cose così no così cos'è cosa 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 mamma mia vabbè vabbè questo vabbè è un mago tanto non ci vedono no cioè c'erano due cani o sbaglio no eh mamma mia ha rigato la raggata proprio nel momento in cui è stata ammazzata quello cioè io penso che me ne andavo me ne andavo o comunque fermi tutti sto in positivo il coglione qua dietro ci dove sta cucco scola pasta in testa c'è zio sono sempre io no no dai esci 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 oddio non l'ho preso manco una volta che culo mamma mia ma è quanto è faticoso oh cazzo sto sculando assist su assist sono il francesco totti del del code 4000 assist in una partita stanno dietro vabbè è 40.000 mi prendo pure la facecam finale mortacci vostra comunque dai nonostante tutto con un'arma di schifo sono riuscito a reprimo nella mia squadra incredibile veramente incredibile questo sono io che muoio malamente comunque ringrazio ancora Gianluca Florio per la classe che ci ha consigliato se volete consigliarmela mettete mi piace sulla pagina facebook e niente poi quello che cazzo vi pare mettete un mi piace condividete il video e andate a fanculo bella grazie a tutti Grazie.